Hanno un po' di filmati, come ho cercato il tuo parere e quello che tu vuoi da fuori? Non è una questione specifica, è una questione che ho analizzato dopo la partita. Quest'anno ho la fortuna di avere un preparatore molto pignolo e molto preparato che anche magari da fuori non sembra essere un mio errore, magari c'è un errore di partenza. Quindi, come ho detto prima, essere ambiziosi vuol dire anche mettersi sotto esame. Io mi metto sotto esame, come penso che lo facciano tutti, e analizzare le proprie azioni e magari rivedere un'azione e vederci un errore dentro a volte fa riflettere, quindi fa migliorare. Io credo che nella fattispecie della partita col Milan, al di là della bravura degli avversari, credo che forse sul quattro volo anticipavo troppo il tuffo, credo che sul primo volo sono stato un po' sfortunato perché l'anno è stata rifallata. Però venire qua e analizzare gli errori, so quando sbaglio e quando lo faccio bene, si vede, anzi, più che altro mi preme sottolineare che la squadra è una squadra viva, che non c'è nessun tipo di problema, non è difensivo, nonostante i quattro voli presi.